Ufficialmente un anno di Monopoli e insieme a questo sono arrivati un sacco di regali tra i quali dadi gratis, scudo gratis e anche un sacco di eventi esclusivi per questo primo anno ufficiale di Monopoli Go. Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like se volete vedere nuovi episodi di questo naturalmente gioco e cliccate la playlist in alto per vedere tutti i video precedenti di questo anno. Fantastico che ha collezionato quasi 200 video all'interno di questo gioco, insomma tanta 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 roba. Commentate qua sotto come siete messi su Monopoli Go, state giocando, ci state giocando ogni tanto magari con i vostri amici ancora, io personalmente ci gioco ancora. Riscutiamo lo scudo gratis per tutti, ricordo completamente gratis, in questo caso io non lo vado ad applicare per il semplice fatto che, anzi no, per oggi faccio un po' un'eccezione, la vado ad applicare ed effettivamente se te vedrai tra poco in alto a destra vedrai un cambiamento dello scudo, quindi lo scudo muta ufficialmente e anche la pedina, ok? Quindi sia pedina che scudo, insomma tanta tanta roba che sinceramente piace sempre vedere queste cose nuove di Monopoli che ti tengono attivo, ok? A livello proprio fisico all'interno del gioco. Nuovo evento, corsa al tabellone, quindi sostanzialmente se riusciamo possiamo ottenere altri dadi e questo è tanta tanta roba. Vi farò vedere dei dadi gratis che ho ottenuto, vi dico soltanto che ho ottenuto i 500, quindi entra adesso all'interno di Monopoli Go se non ti vuoi perdere queste offerte gratuite, perché naturalmente sia l'evento che dura un giorno e 19 ore sono circostanziate a questa settimana del primo anno di Monopoli Go. Primo anno, ripeto, in Italia, il gioco non è il primo anno che è stato lanciato, è stato lanciato in Italia un anno fa. In realtà, facendo dei brevi calcoli, molte persone avevano già provato il game, tanto che ci sono alcuni video addirittura del risalente al 2022, quindi dell'anno addirittura precedente, quindi parliamo quasi di due anni in quella circostanza, ma sono molto limitate le persone che hanno giocato a quella versione di Monopoli e penso che ognuno poi debba prendere le proprie, diciamo, le proprie opinioni. Detto questo, come avete visto nel video di ieri, se volete ho fatto un video, potete recuperarlo qua o andare nei miei video, e il video su come completare tesori dell'anniversario, un minigame dig, quindi uno dei classici vari tesori che sono usciti all'interno di questi mesi su Monopoli Go, un minigioco interessante però perché ci dà molte ricompense, devo dire che è anche un po' più facile a parere mio rispetto alle precedenti versioni, ho fatto due calcoli proprio veloci, molto spannometrici e sembra leggermente più facili, anche forse delle ricompense più golose. Questo secondo me è dovuto dal fatto che Monopoli voleva effettivamente farci un regalo di compleanno, non voleva scammarci o cose di questo genere. Interessante la rapina, sinceramente non me l'aspettavo, se soprattutto mi dovesse riuscire tre anelli era sicuramente meglio, ma comunque 4 miliardi li porto a casa e con questi 6 miliardi che abbiamo messo da parte tramite i vari eventi che abbiamo fatto, direi che a questo punto possiamo catapultarci all'interno del mondo edifici, ok? Siamo andati molto molto bene a livello della costruzione di edifici, direi che Valle delle Fate lo completiamo rapidamente, li buttiamo dentro tutti i miliardi che abbiamo preso, li buttiamo dentro qua, proprio ragazzi senza pudore bisogna andare in queste circostanze, perché ti viene un po' male quando devi potenziare con così tanti soldi gli edifici, ma purtroppo fa parte del gioco, si sapeva già quando uno inizia che prima o poi ti toccherà fare questa vita, è una vita brutta, ne siamo totalmente consapevoli perché sprechi soltanto un fracco di dadi e oggettivamente non è neanche poi semplice recuperarli, però voglio dire, amen, ecco ad esempio questi dadi che ti prendi come boost ci possono stare, ricordo di inviarmi gli adesivi, per inviarveli è molto semplice, c'è un link qua sotto in descrizione, ci schiacciate sopra e potete inviarveli, ve li scorro velocemente per non farveli, diciamo per non scammarvene tanti, noi ho 97 su 189 e ricordo che manca veramente tanto ancora alla fine del set creazione musicale, schiacciamo, 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 road tool set 21, che è l'ultimo naturalmente di questo set, e speriamo che appunto qualcuno di voi mi possa aiutare, che mi fa sicuramente molto piacere. Distruzione per noi, distruzione che non vedevo l'ora di poter sbloccare, di poter fare, li diamo dentro di qua, proprio senza nessun tipo di problema, perfectus, 417 milioni, e adesso voglio fare due calcoli di minigame dig, sinceramente non me ne privo, non voglio lasciarli tutte ste ricompensine, ste palette, ste picconico sbloccato, potrei veramente effettivamente fare il botto per quanto riguarda questo minigame, e quindi forse mi metto un attimo di impegno e me la sblocco. Bella questa emoji, emoji della canterina, naturalmente inerente alla creazione musicale, scaffale completato, il fatto di sbloccare uno scaffale nuovo ti fa sbloccare anche dei dadi e delle banconote extra, che come sapete a me non fanno mai male e non butto mai via, le lascio sempre lì addirittura d'arrivo, che se succede qualcosa al massimo ci sono quelle che fanno sempre bene. Come vedete questa è la ricompensa che ho ottenuto dal primo anno da Magnate, loro mi chiamano, quindi gente che fa parte dei Tycoon Club, anche riguardo al Club dei Magnati ho fatto un video per come partecipare. 500 dadi presi, belli puliti, questo è l'avviso che vi arriverà all'interno del game appena avrete la possibilità di entrare. Insieme a quello lo scudo che avete visto a inizio video. Ho detto questo, andiamo all'interno del nostro minigame, dato che vi ricordo che se non sbloccate il minigame, quindi lasciate queste palette, verranno convertite in dadi, quindi per coloro che vogliono farmare dadi è un buon metodo. E poi è sempre bello vedere questa animazione Tesori dell'anniversario, che ti porta all'interno di questo portale chissà quanto segreto, nella quale le ricompense sono molto golose. Obiettivo, trovare due tortine come questa, quindi devo trovarne ancora altre due di non so bene che quale tipo di oggetto, ma adesso le speriamo di trovarne, ok. Sono delle faccette del signor Mr. Monopoli. Allora, così, senza saperle leggere e scrivere andrei di così, ecco, perfetto. Ottime pale utilizzate, vedete queste vanghette che vanno giù e tirano su questa faccetta del signor Monopoli. Road to 100, quindi terzo stage, sono 100 dadi per noi, che potrebbero essere molto 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 d'aiuto. Sono tre siluretti da andare a sbloccare. Allora, i tre siluretti li sto mettendo totalmente in modo randomico. A quanto pare ho avuto sfortuna nel posizionamento, perfetto. Il primo siluro è andato giù, secondo me il secondo siluro potrebbe tranquillamente essere di qua, perfetto, eccolo qua. Il terzo siluro, allora a questo punto, senza saperne leggere e scrivere, questo dovrebbe essere sicuramente presente, questo anche. Questo pure. 51 pale rimaste. Step numero 4 raggiunto. Dobbiamo semplicemente completarlo. E ci darà una cassa, una cassa che comunque potrebbe esserci, potrebbe esserci eventualmente d'aiuto. Ma adesso ci penso anche se andare avanti o no. Anche perché vi ricordo che se volete farmare dadi non è proprio questo il metodo migliore, ok? La cosa migliore se dovete farmare dadi è quella di risparmiarli e provare eventualmente a potenziarci in modo extra. Ma questi sono dettagli che poi dovete valutare voi e capire se siano validi. Oppure no. Benissimo la ruota colorata. Sono molto contento di questo pacchetto da desili verde. Direi che possiamo andare avanti. 266 milioni mentre che arrivano. Sinceramente, not bad neanche loro. Come si è messi con i potenziamenti? Sai che non so come si è messi con i potenziamenti? Vorrei sapere un attimo se l'ultimo edificio l'ho completato. Perché l'ultimo edificio penso di averlo completato. Il penultimo... Paura che mi facciano ragazzi una rapina di quelle importanti. Mi prosciughino le banconote che ho collezionato tramite queste due o tre distruzioni. Anche qualche altra ricompensa. Purtroppo c'è quel rischio. La rapina non la puoi neanche prevedere tramite degli scudi. È un qualcosa di imprevedibile. È anche parecchio fastidioso se vi interessa. Bene le vanghe. Bene altre vanghe. Altre sette vanghe che vanno a rifocillare quelle che abbiamo speso in precedenza. Allora, vediamo un attimo. Voglio fare due test. Ok. Quindi gli ultimi due li ho completati. Allora, col miliardo che ho sbloccato in realtà posso far ben poco. Posso potenziare letteralmente quanto riesco il terzo edificio. Ora, cerchiamo di riappiacificarci e provare a fare un percento. Vedere un attimo cosa riusciamo a completare. Oh, là. Eccoci qua. 452 milioni. Sette. Parcheggio gratuito. Otto. Società. Benissimo la società. 12. Benissimo. Meno male che non sono finito sulla tassa patrimoniale che impazzivo. Ok. Meno male che abbiamo preso anche gli scudi perché purtroppo raga senza scudi ti prosciugano letteralmente. Infatti è un po' una rogna quella. Io vi consiglio sempre di non farvi prosciugare che potrebbe essere sempre problematiche e basta. Ok. Benissimo col percento. Ecco che a questo punto poi il percento diventa fondamentale. Ricordo che comunque ho fatto anche altri video su come potete andare a potenziare tramite percento, tramite altre cose, alcune robe fantastiche. Vedrete comunque in futuro altri video interessantissimi. 2 miliardi 746 milioni che andiamo ad investire rapidamente purtroppo e quindi un po' stirati, un pochetto stirati lo siamo perché ci mancano 3 potenziamenti del primo edificio e l'ultimo del quarto. Indicativamente una spesa di altri 2 miliardi. Quindi devo assolutamente darmi da fare e collezionare più soldi possibili da questo tabellone che sta dando i suoi frutti ma sempre limitatamente a quanto possibile. Ok, attenzione al miliardo e mezzo, bene. Perché mi sa che forse ci siamo. Forse l'abbiamo raggiunto. Ok, manca un roll. Non mi far entrare in una stazione, io sono contento. Non mi far entrare in una stazione. Hola, perfetto, ci siamo. Finito il primo edificio, finito un po' tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, like, iscrizione, commento e condivisione con i miei vostri amici. Cliccate uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro. Ci vediamo domani, ore 14, sempre qua, su YouTube. Ciao belli, grazie per i 29k, road to 30.